Ragazzi, buona giornata a tutti, buon venerdì 899, 9 agosto 2024, buon venerdì 9 agosto 2024 Innanzitutto mettete mi piace al video, prima cosa da fare per supportare gratuitamente il canale Mettete mi piace al video dopo due giorni di sbalzi d'umore sportivi qua Comunque, mi raccomando, mettete mi piace al video per supportare appunto gratuitamente il canale Allora, cosa dobbiamo dire oggi? Todibo è definitivamente saltato, sta volando a Londra per sostenere le visite mediche con lo STEM e firmare il contratto Cosa che vi fa capire che quando tu arrivi a un accordo, non bisogna tanto stare là a cincischiare giorni e quant'altro Arrivi all'accordo, accontenti la società la quale appunto detiene il cartellino del giocatore E il giorno dopo fai le visite mediche e la firma Ma infatti è successo così anche con noi quando abbiamo trovato un accordo Il giorno dopo era a Torino il giocatore per appunto effettuare le visite mediche Al di là del fatto che appunto magari fosse in vacanza o stesse giocando ovviamente una competizione con le nazionali Però di solito funziona così Allora, trattativa Todibo saltata C'è ancora la trattativa Kupemainers in ballo E poi c'è anche appunto adesso la domanda su quale difensore andremo Allora, per quanto riguarda la difesa Sembra ovviamente evidente che la Juventus volesse e voglia risparmiare E non voglia andare appunto sul giocatore a titolo definitivo Per poi appunto reinvestire o meglio investire quei soldi sul trequartista Che in questo momento qua è Kupemainers Allora Dovesse saltare il giocatore olandese Sicuramente Tiavomotta si incazzerà e si incazzerà di molto Io credo che l'errore principale di Cristiano Giuntoli E ricordiamo che al primo anno la Juventus non ha chiesto l'obbligo di vittoria a Tiavomotta Ricordiamoci questo Ricordiamoci che Tiavomotta arriva da una società come il Bologna Che non è che andava a prendere De Bruyne Ok Credo che Tiavomotta abbia delle pretese sicuramente O comunque abbia delle richieste sicuramente Ma non è una persona, un attore stupido È un attore intelligente E quindi credo che qualora Giuntoli fosse andato Da Tiavomotta all'inizio E non è che Kupemainers è stato l'ago della bilancia per far firmare il contratto di Motta La Juventus per me è una grande cagata questa cosa qui Perché Motta sposa il progetto, non sposa un giocatore O comunque Anche perché appunto si sapeva già un po' la situazione finanziaria Che sarà stata comunque presentata da Giuntoli allo stesso Tiavomotta Io mi sarei comportato così Sarei andato da Tiavomotta all'inizio del progetto Dicendogli noi ti prenderemo i giocatori con le caratteristiche che serviranno a te Però giocatori sostenibili Giocatori che ci possiamo permettere Dal prossimo anno potremo Ovviamente se farai bene il tuo percorso in Champions Non significa vincere Se porterai comunque dei buoni incassi Se comunque arriverai tra i primi 4 Se comunque tanti se e tanti se Potremo andare su giocatori specifici che tu vorrai Tu ci dirai il nome Ovviamente non la lista Però un giocatore che tu vorrai Uno o due giocatori che tu vorrai Li potremo fare Però quest'anno caro Tiago Possiamo accontentarti sulle caratteristiche E non sui singoli giocatori Perché se tu vuoi Coopmaners Noi adesso imbastiamo una tradattiva con l'Atalanta Che io credo Ma è una mia sensazione Che l'Atalanta abbia ancora il dente avvelenato Per quello che disse Agnelli anni fa Perché Agnelli non è più il presidente Ma la Juventus rimane Quindi le stronzate che fanno i tesserati Poi purtroppo O che dicono i tesserati Rimangono nella società Ok quindi l'Atalanta Probabilmente dice Scusa Questi qua ci hanno trattati Come Come Dei provinciali del cazzo E io dovrei rinforzare Una diretta concorrente Anche magari Facendogli uno sconto Col cazzo Ecco Non posso fare il gesto Perché se no Tira un pugno al microfono Comunque avete capito Per Cassi non è Uno con il quale è facile trattare Se lui dice No Da quello che mi hanno riferito Comunque E' un personaggio Che se ti dice di no E' no E può anche Tranquillamente tenersi Da quello che mi dicono Cup Maners In tribuna Io qua Può essere Drastico Quanto volete L'anno scorso Cup Maners Non ha Diciamo Piantato i piedi Come sta facendo Quest'anno Per andare Alla Juventus L'anno scorso Lo voleva il Napoli L'anno scorso Il Napoli Presentò un'offerta Fuori i tempi massimi Come Si vocifera Abbe fatto la Juventus Quest'anno Sembra che comunque L'Atalanta Avesse promesso Al giocatore L'anno scorso Di liberarlo Quest'anno Qualora fosse arrivata Un'offerta simile Non è stato così Credo che comunque Anche per un'Atalanta Che l'Atalanta I soldi che prende Non li prende Dallo sponsor Dallo stadio Dal brand Dal merchandising Li prende I soldi li prende Soprattutto Dalle vendite Perché l'Atalanta È Così Ben Ben mensa Finanzialmente Perché Perché l'Atalanta Sempre Fatto Quella politica lì Cioè compro Giocatori a poco E poi li rivendo Dopo qualche anno A 3 4 volte tanto Minimo Rispetto a quello Che li ho comprati Ed è per questo Che l'Atalanta Va avanti Quindi io non credo Che Copemainers L'eventuale Poi Tribuna Faccia bene Anche l'Atalanta Stessa Perché comunque Perdere qui Di 50 milioni Secondo me Alla lunga Pesa Anche per Cassi Io temo Come ha detto Agresti Sotto quell'aspetto Là Che non sia una cosa Imminente Che si possa andare Addirittura Verso fine Il mercato Però là L'Atalanta Sono state gestite Meno bene Male O malissimo Io credo che Se Giuntoli Avesse fatto Il discorso Che vi ho detto Prima A Tiago Motta Tiago Motta Da persona intelligente Qual è Avrebbe capito E si sarebbe Accontentato Tra virgolette Di giocatori Con Non Non Precisi E specifici Che avrebbe voluto Lui Ma con Le caratteristiche Specifiche Che avrebbe voluto Lui Ecco Quindi Uno relay Ad esempio Che non lo conosco Qui non sto qua A dire che sarebbe Sicuramente un giocatore Alla Tiago Motta O simile a Coupmaners Come dice qualcuno Però è giusto Per farvi capire Un giocatore Così Con caratteristiche Che potrebbe Ecco Un giocatore del genere Così non è stato È normale Che se a Tiago Motta Poi gli prometti L'unico giocatore Che ha chiesto Tutta l'estate Poi non dovesse arrivare Ragazzi Scludiamo Poi per carità Nel calcio Non si sa mai Però scludiamo Cose Drastiche Come dimissioni Queste cose qua Però sicuramente Tiago Motta Si incazzerà Perché poi Comunque un progetto Non di un anno Di tre anni Quindi Credo che Insomma Ci sia Modo e tempo Per riparare Agli errori fatti Al primo anno Che sono dovuti Anche al fatto Che si arriva Comunque Da una situazione Finanziaria Economica Sportiva Dannosa Devastata E devastante Anche Dalla gestione precedente Ok Comparatici Cerubini Agnelli Prima ancora Marotta E poi Con Allegri In panchina Questo è un dato Di fatto Poi E queste sono Le situazioni Negative Che bisogna Spiegare Perché è giusto Criticare Io non sto qua A dire che Giuntoli va Difesa A prescindere Va detto che Comunque È il primo anno Vero Perché l'anno scorso Non lo calcolo L'anno scorso Ho pensato bene Secondo me Giustamente Di non Accontentare Allegri E ha fatto benissimo Però detto questo Per me È il vero Primo anno Che lavora Con il suo Progetto Perché Tiago Motta È un attore Che ha scelto Soprattutto lui Quindi È un suo Progetto Quindi Dovesse fallire Tiago Motta Sarebbe un fallimento Soprattutto di Cristiano Giuntoli Ma qua Sembra veramente Che dobbiamo Pensare subito Già al fallire All'esonero Alle cose Più drastiche No Pensiamo anche A volte Ogni tanto Alle cose positive Sicuramente Io sono negativo Di mia indole Quindi sotto questo aspetto Qua capisco bene Perché meglio Partire con il piede Cioè con il Freno a mano tirato Puoi avere La bella sorpresa Che partire in quarta E poi avere Una delusione Veramente Atroce E io sono d'accordo Con voi Però Insomma Guardiamo un po' Anche tutto Tutto l'estero Adesso mi è stato detto Mi è stato riferito Da Damiano Che su X Sta Spopolando L'Hastag Giuntoli out Allora E questo conferma Quanto la tifoseria nostra Sia una tifoseria di merda Perché adesso Non Mi ricordo Sui social Però mi ricordo Che Nell'estate 2010 L'anno La stagione 2010 2011 No La prima Mi parla di Marotta Mi ricordo I tanti attacchi A Beppe Marotta Dagli stessi Che poi magari Dopo 15 anni Sono qua a dire Che Marotta È un grande dirigente Che poi anche là Le opportunità No Io Allora Io sono d'accordo Con chi critica Soggettivamente O meglio Oggettivamente Scusate Un affare saltato Ok Ma i giovani Scusate Ma ragazzi Adesso veramente Parliamo di Allora Che Tiago Motta Lo stimava Che non avrebbe ceduto Se non per 70 milioni Quello che vogliamo Va bene Tiago Motta Lo sappiamo Che era un estimatore Di Sule Ma Al di là di questo No Parliamo di giocatori Che comunque Non hanno dimostrato Nulla Ma neanche Di poter Fare Chissà che cose In un futuro Qua sembra Veramente Che abbiamo ceduto Il nuovo Lionel Messi Cioè Vi faccio D'esempio Anche Ildiz Che adesso Chiede 2 milioni E mezzo Lui Yamal Sapete A quanto ha rinnovato L'anno scorso Il contratto Con il Barcellona E qualcosa L'aveva già fatto Vedere Molto di più Rispetto a Sule Molto di più Rispetto a Ildiz Sapete Quanto piglia Yamal Al Barcellona Dopo quel rinnovo Di un anno fa 800.000 euro E aveva rinnovato Se non sbaglio Fino al 2026 Mi pare O 2028 Se non mi ricordo 800.000 euro Parliamo Di una cantera Che è sempre Stata la più importante Insieme a quella Olandese Dei giovani Ok Dell'Ajax Soprattutto Non è Adesso Sembra che I nostri giovani Solo perché Si ha voglia Che I nostri giovani Facciano le stesse cose Che hanno fatto Pedri Gavi Yamal Questi giocatori qua Mouth Allora Si ha sta voglia Che i giocatori Che sicuramente I nostri giocatori I nostri giovani Sarebbero stati Dei potenziali crack Ma io Ripeto Ok La Juventus Ha zero soldi A zero Cioè Deve fare un mercato A corto zero Anche se entrate in Champions Perché Perché comunque La Champions E poi Gli incassi che hai Sia dalla Champions Sia dalle cessioni Comunque Non vanno tutte a mercato Vanno a coprire Soprattutto per la Juventus E la situazione Nella quale è Vanno a coprire Buona parte del bilancio Ok Quindi Anche là Bisogna fare un po' Di distinzione Sotto questo aspetto qua Però Ragazzi Io Ripeto È giusto Analizzare È giusto Essere critici È giusto Anche di pancia Sfogarsi Perché è giusto Io non sto qua a dire Che non sia giusto Siamo anche tifosi Non dobbiamo fare per forza Sempre i razionali È giusto anche Sfogarsi ogni tanto Incazzarsi con Giuntoli Perché è giusto Incazzarsi con Giuntoli Sei da un mese e mezzo Sotto di voi Non è arrivato È un fallimento tuo Assolutamente Non sto qua a dire che non è vero Che bisogna difendere sempre Giuntoli Poi Se dobbiamo fare però Anche il discorso razionale Perché quello poi collegano Soprattutto chi sta su YouTube Dovrebbe fare anche questo Ripeto Motta ha fatto dei disastri Il primo anno Io credo che Cristiano Giuntoli Abbia fatto Delle castronerie Anche quando era a Napoli Infatti Io lo consideravo mediocre In quel periodo là Ma forse anche Un po' Limitato Da De Laurentiis Quando gli ha lasciato Carta bianca Giuntoli Ha portato Certi giocatori Che poi hanno contribuito E ha portato L'anatore Soprattutto che hanno contribuito A vincere lo scudetto Con Napoli Un anno casuale E va bene Io credo che Cristiano Giuntoli La coppiata Cristiano Giuntoli Tiago Motta Se gli daremo tempo Ci potrà togliere Soddisfazioni Tante soddisfazioni Io l'ho detto L'altro giorno A Juventibus Però Non possiamo pretendere Che una rivoluzione Come la intendiamo noi Non abbia Degli effetti collaterali E che ci vada bene tutto Non è possibile Non è concepibile Purtroppo non è concepibile È concepibile Anche che Trattative Sulle quali Cioè Giocatori sui quali Ci siamo Da Navita Saltino È concepibile Non è accettabile Non è accettabile Si può anche Non accettare Però può capitare Questo va Sottolineato Questo va Capito Ok Soprattutto in un anno Nel quale la Juventus Non parte da zero Parte da meno dieci Con una rosa Strasvalutata Dalla natura precedente Motta Non è venuto Alla Juventus Per valorizzare i giovani Al Bologna Non ha valorizzato Solo i giovani Ha valorizzato Anche altri giocatori Come Freuler Ok Che non è giovanissimo Quindi Tiago Motta È stato preso Per valorizzare Tutti i giocatori Che aveva già la Juventus E che sarebbero Arrivati comunque dopo Ok Non è stato Perché Tiago Motta È un attore Che non si basa Sull'individualità Tiago Motta È un attore Che si basa Sulla Collettività Che poi appunto Valorizza anche L'individualità E per questo Comunque Va dal mercato Voglio essere Non estremamente Ottimista Però voglio essere Ottimista sotto Questo aspetto qua Non vedo l'ora di vedere La Juventus giocare Prima in partita ufficiali E Ci vorrà del tempo Anche lì Molto tempo Siccome Poi magari Tiago Motta Fa delle cose clamorose E partiamo subito Forte Lo spero Me lo auguro Attenzione Però Quello che Ha in più Non Tiago Motta Ma un allenatore Tipo Tiago Motta Rispetto a un Murigno A un Allegri A un Simeone A questi allenatori qua È che questi allenatori qua Chiunque Mettano in campo Entrano in campo In un sistema Tattico Che funziona Che è ben collaudato Che è ben organizzato E che poi L'individualità È un qualcosa Un valore aggiunto Ma non l'unico valore Questo è il senso Quindi Che arrivi Todiboh Che arrivi qualche altro difensore Speriamo arrivi Soprattutto E speriamo Comunque che sappiano Adesso cosa fare Perché Non vorrei poi Che navighino un po' A vista In questo momento qua Per come la vedo io Il valore aggiunto Vero e proprio Ed eravamo tutti d'accordo L'anno scorso Quando si sentiva parlare Tiago Motta Al posto di Allegri E Allegri Isonerato E quant'altro Il vero valore aggiunto Deve essere Lo stesso Tiago Motta Indipendentemente Degli giocatori Che ci saranno Siamo o non siamo D'accordo su questo Poi il mercato Va analizzato Ma per questo Sono critico Ma non sono Eccessivamente Critico Perché Perché comunque La mia speranza Ovviamente Se hai una rosa corta Con 3-4 competizioni La Qual Non so se ti tiro La Qualche Critica A Giuntoli Va fatta Sicuramente Ma per me Va fatta Perché non è stato Subito Sincero Schietto Con Tiago Motta Sul discorso Che in quest'estate Qua Nella prima estate Del progetto Tiago Motta Barra Giuntoli Non avremmo potuto Fare Chissà che investimenti Alla Coupe Maners Se non Stare dietro Per rischiare L'inculata Finale Io Non lo so Non lo so Poi Chi Ha fatto partire Sti astrag Del cazzo Giuntoli out Saranno i primi Poi Fra 2-3 anni Dovesse fare bene Dovesse poi Riscattarsi Quando Effettivamente La situazione economica Societaria Sarà Messa meglio Quando Saremo magari Al prossimo anno Che ci saranno Altri investimenti E quant'altro Anche se comunque Avremo il mondiale per club E la preparazione Poi partirà dopo Ma Al di là di questo Tutte queste cose qua Saranno i primi Poi a esaltare Giuntoli Senza ricordarsi Però Quello che hanno detto Perché attenzione Le critiche ci stanno Le sentenze Dopo un anno Dopo un'estate Su entrambi I personaggi Tiago Motta e Giuntoli Dico E attenzione Perché sono dei boomerang Nel bene o nel male Attenzione Perché sto dicendo Non è che Anche quelli che dicono Con Motta vinceremo tutto Con Giuntoli Vinceremo tutto Quest'anno Vinceremo lo Scudetto La Champions Nel giro di tre anni Sicuramente Non è che Quelli lì Siano esenti da critiche Attenzione Sono Criticabili Come sono criticabili Quelli che Sono estremamente Disfattisti Che non partiamo bene Con questo progetto Che non faremo un cazzo Che sarà un altro progetto Potato puttare Cioè Tutte ste robe qua E no Allora Allora non abbiamo ben capito Ah la situazione Della Juventus Dopo tre anni Bessimi Dopo la gestione Precedente Pessima Non solo a livello Tecnica Ma a livello Anche dirigenziale E B Non abbiamo ben capito Il progetto Che è partito E il C Non abbiamo capito Veramente Che cosa significhi Rivoluzione Allora Tutto lì Attenzione Ripeto Sottolineo Evidenzio In grassetto Le critiche Sono Legittime Giustissime Sono con voi Ok Ma l'estremismo No Tutto lì Ecco Quello è il mio senso Il disfattismo Cronico No Per questo Io banno La gente Sul mio canale Che viene a fare Il disfattista La disfattista Cronica Perché Non fate bene Alla Juventus Così La critica Ci sta Il disfattismo Già futuristico No Già faremo schifo Perché lo sapete Che poi Alla fine Sembra che veramente Ci sia Qualche Qualcuno Gufi Per dire Poi Ve l'avevo detto Che saremmo andati così E quant'altro Va bene Cioè se questo è il vostro compito Da tra virgolette Ma tra molte virgolette Da tifosi Ma I tifosi sono altri Vabbè Vedremo Vedremo Perché dopo tre anni Di non Juventus Bisognerebbe Quanto meno Sotto questo aspetto qua A livello di entusiasmo Remare Dalla stessa parte Poi ripeto Ognuno ha le proprie idee Critiche Meno critiche Quello che vogliamo Però Quanto meno A livello di entusiasmo Di voglia Bisognerebbe remare La stessa parte Invece Come immaginavo Per carità Tolto Allegri Siamo tutti contenti Però poi La tifoseria Dal Credo terzo anno di Conte Non è più unita Quindi Ma non mi aspettavo Che si riunisse così Non saremo mai più uniti Perché comunque Ci sono le battaglie ideologiche Di tipo di tifosi Che siamo O che sono altri Quindi Non sarà più Unita La nostra tifoseria Anche perché È la più numerosa In Italia Quindi È molto difficile Sotto questo aspetto Vabbè Metto questo Io vi auguro Buona giornata a tutti Ci vediamo Alle 12.45 In live Sul tridente Che ne parleremo Di queste cose qua Intanto Qualche cosa mi dice Nei dialoghi tra Juve e Ajax Per il prestito di Lugani Giovanni Albanese Mi riporta Damiano Operazione Già iniziata Può emergere L'idea che Spingerebbe Sutalo La Juventus Difensore Colato 24enne Richiesta Di 15 milioni Per il cartellino Ingaggio Di 2 milioni Sostituiamo Todiboh Con Sutalo Io non lo conosco Sutalo Sono sincero Non lo conosco Dovrei chiedere Magari a Walter Che non so Se l'ha visto giocare Io ripeto L'importante È avere un piano Dopo Todiboh Anche se questo Mi sembra un'improvvisata Un'improvvisazione Va detto Però Sicuramente Per il difensore Non avrebbero mai Speso cash adesso Per questo Vorremmo fare Prestito con obbligo I soldi Vanno spesi In altri reparti Sicuramente In difesa Anche se All'inizio Del calcio mercato Vi ho detto Che io Se è andato Più Prendere un difensore Però Più che altro Perché non era Arrivato Calafiori Ma vedendo Che comunque Quel lavoro lì Lo sta facendo fare Comunque cambiaso Secondo me Va bene così Vedremo Dai vedremo Quindi chiudiamo Con questa notizia qui E niente Buona continuazione A tutti E fino alla fine Forza Juventus Ci vediamo dopo Ciao a tutti